ciao a tutti ben ritrovati mi raccomando non giochiamo perché il gioco vettato minore può causare dipendenza patologica canale riservato un pubblico maggioregne proviamo una crystal tech magic abbiamo un po 50 euro cambiati ciao un abbraccio a tutti coper vuoti Questa l'ostallo, l'ostallo da 70 in su un po come si comporta, nulla di fatto ad adesso, è buona quando dalle spesso le funzioni random, però adesso a nessun punto il genio è morto ragazzi niente da fare vediamo adesso la funzione subito a 3 27 vediamo un po' 100 euro amici, questo si può dire che è sederino per non dire culetto partita fortunata direi proviamo sempre circa 20 euro grazie a tutti per le iscrizioni per avermi seguito anche nelle live, abbiamo inserito poco una ventina d'euro circa senza che i soldi andavano sotto, avete visto non influisce nulla, poteva essere già un pagamento in corso se non c'è più niente la molliamo, mettiamo circa 20-30 euro altra funzione subito a 3 nulla giusto gli ultimi 10 euro poi la salutiamo non c'è più non c'è più non c'è più qui le vite non c'entrano nulla, è l'ultimo tiro rispetto alle vital niente ci ha dato un po' di gioco però si vede che sono piccole rimanenze per adesso non c'è più 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 un saluto generale sempre a tutti amici non c'è più non c'è più non c'è più questi possono essere diciamo una pagata di rimanenza e se andiamo a 3 ce li mangia quindi è bene adesso restiamo a 1 a 30 a tirarli giù se vuole ci porta su comunque a 30 se no andiamo avanti ancora un pochino vediamo o se no almeno i 20 e si è la rimanenza e se ci dava queste come si chiamano le ampolle come si possono chiamare non mi ricordo più come si chiamano le lampade ecco era buona la situazione però a questo punto io la lascio perché è andata bene bisogna contentarsi abbiamo scelto poco e abbiamo preso 100 euro per cui meglio di così non poteva andare al limite proviamo una vita vediamola vediamo vediamo Napoleone questa è una vita Sanremo vita questa c'è lo stallo a 60 ovviamente ho per vuoti ora non vuol dire perché avete visto la la Crystal Test la Magic Coin ci ha pagato 100 spesso con gli hopper pieni abbiamo fatto il bagno qui se c'è una falsa partenza ce la dobbiamo proprio prendere perché ci proviamo qualche euro una vita una vita nulla mi raccomando possibilmente non giocate perché sono macchine infernalie pericolosissime canale di intrattenimento dimostrativo come sapete per farvi conoscere appunto il pericolo di queste slot e motorizzate vite un po' o per belli vuoti una pizza e basta niente, slot negativa per adesso questa qua amici e ci dobbiamo anche fermare perché se questa qui vuole 80 euro per darcene 20 mi mangia diciamo tutta la vincita effettuata sull'altra slot quindi vediamo se quando fa queste pagatine qua di solito li mangia sempre vediamo un po' 4,50, 5 euro vedete fa sempre le stesse cose tutti schemi fissi se ci dovesse dare anche 20 euro sarebbe buono da prenderli come gira sta slot è stata massacrata vediamo un po' se ci dà una partenza non ha intenzione usci 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 e usci vediamo al primo tiro vediamo se può essere una partenza probabile partenza ma non è detto che dia lo stallo solo con le vite all'ultimo tiro è sicuro ecco qua vediamo un po' se tiene sennò dobbiamo abbandonarlo e si sapeva che ci dovevamo prendere i 20 avete visto? pagata da 10 uno avrebbe detto vai avanti perché è buona deve dare lo stallo e invece ce li ha mangiati senza darti niente questa ne vuole altri 80 a questo punto direi amici ci salutiamo siamo andati in attivo su questa partita e quindi voglio rimanere in attivo e ovviamente non ci provate a casa fate sempre attenzione perché il gioco può causare dipendenza patologica dei vietati minori ci aggiorniamo nel prossimo video un abbraccio e un saluto a tutti da angelo e continuate a seguire il canale slot svelate ciao a tutti e un abbraccio grazie 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 grazie